Dal Vangelo a secondo Matteo. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Buongiorno e buon inizio di settimana, riprendendo in mano la nostra vita, tentando di uscire dal torpore della routine e strappandoci dalla dimenticanza che Gesù è presente e dunque che la nostra felicità è possibile. La Chiesa ci propone oggi la storia di Andrea, fratello di Simon Pietro e primo tra i discepoli ad aver incontrato Gesù insieme a Giovanni. Infatti, la buona notizia che ci viene donata in questo lunedì riguarda proprio l'incontro con il Signore. All'origine di ogni vita veramente cristiana vi è necessariamente un incontro con Cristo. In molti appartengono alla Chiesa in modo sociologico o come luogo della propria tradizione, ma c'è un momento in cui o si incontra in modo storico, personale, carnale il Signore, nel qui ed ora della nostra esistenza, o pian piano tutto inaridisce, la vita e la fede diventano grigie e incolore. Riduciamo le nostre domande, pensando che sia inutile cercare risposte che soddisfino il desiderio umano. Per strapparci dal nulla e appassionarci della vita, oggi è lunedì, chissà quanti si saranno svegliati brontolando. Abbiamo bisogno di incontrare una presenza, una carne che ci parli e ci faccia compagnia. Ecco perché Dio si è incarnato e si è fatto amico prima di Giovanni e Andrea, poi di Pietro, Tommaso e via via nei secoli fino a me e a te. Tu hai incontrato il Signore, lo hai riconosciuto presente in qualche modo misterioso ma carnale. Senti che la tua vita è definita da questo incontro. Oppure, se fossi stato tu, non lasceresti mai la barca e tuo padre per seguirlo fino ai confini del mondo.